Questa è un'altra importante decisione che devi prendere questa sera. Chi vuoi mandare al televoto insieme ad Ignazio e Roberto? Mando al televoto e nomino Andrea, perché ho visto, o a mio avviso, Andrea è quello che ci sopportava meno. Adesso noi arrivissi arrivati di là, a volte mi sentivo un po' di troppo. Ci vuole anche dell'empatia secondo me in questo programma e tu ne metti veramente poca, a parte origliare, fare della legna. Questo è il mio pensiero nei tuoi confronti, non mi entusiasmi come persona. Cosa vuoi che ti dica? Ok, ma da quel che ho capito, devo dire, è fare io la nominazione. Sì, 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 certo. E allora, non ho preso confidenza con Andrea, ma non è questa la motivazione, è proprio quella che mi sentivo di troppo questi ultimi giorni, soprattutto nei suoi confronti. non ho, non mi sono sentita accolta da parte sua.